Una figura di sedutore ormai peraltro un po' in disuso ma limitata comunque a una nicchia è quella dello Yuppie o Yuppies che sarebbe lo Young Urban Professional, il giovane professionista urbano. Questa figura diciamo si è sviluppata negli Stati Uniti a metà degli anni 80 fino all'inizio degli anni 90 più o meno e in Italia più o meno ha seguito in coda e si trattasi diciamo di giovani 25 anni, 30 anni laureati in prestigiosi università e che hanno subito figli di papà normalmente che hanno subito trovato lavoro soprattutto nella Milano finanziaria e diciamo il tipo di seduzione è quello della preselezione cioè agganciano donne normalmente appariscenti normalmente anche arrampicatrici sociali che vanno alla ricerca diciamo del rampollo per avere un po' di notorietà o comunque la possibilità di frequentare ambienti esclusivi infatti lo Yuppie si riconosceva proprio per accessori molto costosi quindi orologi, abbigliamento all'ultima moda, poi auto di lusso e vacanze o weekend in luoghi esclusivi per cui diciamo si accompagnavano normalmente da oggetti simbolo del benessere fondamentalmente frequentavano anche ambienti esclusivi per cui queste ragazze diciamo venivano sedotte in modo naturale non tanto dalla persona in sé ma dallo stile di vita che la persona faceva, permetteva di poter fare è un po' diciamo ridimensionata di molto la seduzione che può offrire una rock star un personaggio comunque dello spettacolo che al di là del soldo in sé permette di fare uno stile di vita che attrae molte ragazze e molte donne alla ricerca per così dire di emozioni fondamentalmente poi alla fine perché si cerca di fare un tipo di vita più che un'altra perché si crede che con un tipo di vita socialmente diciamo esclusiva si possono vivere più emozioni per cui la seduzione dello Yuppie è legata proprio a questo fenomeno di preselezione sociale nel senso che queste ragazze vedendo che loro comunque riscuotevano successo con altre ragazze proprio per lo stile di vita che riuscivano a condurre questo gruppo di follower diciamo così accresceva sempre di più al giorno d'oggi il fenomeno è abbastanza in disuso sono molto pochi i ragazzi di quell'età lì che riescono a diciamo a diventare professionisti affermati oggi nella precarietà diciamo piuttosto che young urban professional potrebbe essere young urban precario ma comunque ve ne sono ancora e utilizzano sempre la stessa strategia sono ovviamente cambiati gli accessori abbastanza insomma gli accessori da esibire probabilmente sono cambiati sicuramente anche i luoghi diciamo trend dove andare ma il principio è sempre quello il vecchio principio della preselezione quindi ragazzi di 30 anni diciamo 25-30 anni che vogliono utilizzare questa tecnica di seduzione possono tranquillamente simularla devono comunque avere l'accortezza di diciamo trovare qualche accessorio anche pochi per simulare comunque uno stile di vita diciamo moltaggiato ed esclusivo suggerisco sempre quando per proporre questa tecnica che due o più si mettano d'accordo per creare così un team di seduttori di appi diciamo perché riescono in finocchiare meglio le donne che le quali diciamo se da più parti ricevono informazioni che questa persona quello che poi la tecnica di seduzione deve funzionare che uno dei ragazzi diciamo è quello che poi deve andare a segno a bersaglio gli altri sono le spalle se si riesce a trovare anche come spalle delle amiche diciamo che devono essere abbastanza ocche o simulare di fare le ocche e possibilmente appariscenti, molto appariscenti non importa che siano poi bellissime l'importante è che insomma che si notino e una volta che si è creato questo team può agire diciamo nei locali soprattutto perché nei locali ovvio che almeno per una sera un po' di denaro bisogna spenderlo perché serve comunque un privé esclusivo in una discoteca dove insomma lo champagne deve comunque scorrere e in quella sera si possono però già agganciare molte ragazze disponibili che verranno quasi da sole a diciamo a cercare di conoscere comunque queste ragazze possono trovarsi diciamo tra le normali frequentatrici abituè per cui è molto importante che le spalle diciamo che poi devono finalizzare la riuscita sponsorizzino tutte uno indicandolo come particolarmente ricco particolarmente diciamo con uno stile di vita particolarmente lussuoso trend in modo tale che questo automaticamente canalizzi la diciamo l'attenzione delle ragazze dopodiché quando queste verranno nel momento in cui vengono praticamente il giochino è fatto basta poco per insomma poi concludere la serata in un motello ovviamente non portatela a casa perché magari abiti nel monolocale periferico quindi non devi fare sta figura devi portarla nel motel e poi si esaurisce tutto lì ovviamente la sera è interessante usare questa tecnica cambiando molti locali per riuscire diciamo a variare un po' il diciamo il giro delle ragazze insomma è anche importante alternare in modo tale che tutti quelli del gruppo riescano a ruota diciamo ad avere il loro successo bene per questo video è tutto vi do appuntamento al prossimo seguitemi anche sul blog istituzionevip.com ciao